Barbara Masoni, buonasera. Buonasera, buonasera a tutti. E benvenuta, benvenuta davvero qui nel posto delle parole per raccontare del festival denominato Contemporanea, Contemporanea Parole e Storie di Donne. Il progetto che è nato da un'idea di Irene Finiguerre e Barbara Masoni si sta per realizzare nell'edizione 2021. Ricordo che questo progetto è nato all'interno dell'associazione Bbox in collaborazione, oltre che da Irene Finiguerre e Barbara Masoni, come ho detto poco fa, in collaborazione con la libreria Vittorio Giovannacci di Biella. Barbara Masoni si laurea in letteratura inglese e poi consegue il Master in American Studies, la letteratura e la sua passione e da oltre vent'anni lavora nel content management, copywriting, traduzione, editing e revisione di testi. Ora, sovente, Barbara Masoni, sentiamo parlare sempre più sovente di queste definizioni inglese di content management. Ecco, qualcuno si chiederà cosa diavolo è questa definizione. Che cosa racconta? Che cosa significa? Che cosa è un content management? Innanzitutto, per quel che riguarda proprio il mio lavoro, è la produzione di contenuti per un'azienda, in particolare per un gruppo bancario italiano. In senso lato comunque è anche quello che facciamo in contemporanea, perché produciamo contenuti da oltre un anno, sono ormai da giugno del 2020, sui mezzi più semplici, se vuoi anche a volte, che sono i social network. Più semplici non nell'utilizzo, ma più semplici come arrivo e come arrivare a un buon pubblico. Infatti, contemporanea causa, come tante cose, causa Covid, nasce prima sui social media. Abbiamo iniziato a pensarci, io Irene, a fine 2019 e abbiamo pensato a un festival in presenza, appunto. E poi abbiamo dovuto adattarci a quelle che sono state le condizioni dettate dalla pandemia e cominciare invece a parlare, a dare voce alle scrittrici, ai libri, alle parole e alle storie di donne, appunto, sui social. Quindi abbiamo iniziato a creare contenuti per i nostri profili, per i nostri account e condividendo, appunto, con il nostro pubblico, interviste con gli scrittrici, proposte di scrittori che proponevano le loro scrittrici preferite in una serie di video che avevamo chiamato scrittori per scrittrici e poi tanto altro, citazioni, profili di donne di talento, magari un po' così, dimenticate e sempre interviste, appunto, alle scrittrici. Senza dimenticare poi la volontà di incontrare invece il pubblico in presenza e abbiamo avuto l'opportunità già l'anno scorso di creare un festival di due giorni. Quest'anno ritorniamo, ai due giorni dell'anno scorso si aggiunge una serata anche a teatro, quindi siamo molto contenti. Si comincia il 24, si finisce il 26. La seconda edizione a Biella di questo festival contemporanea, la C iniziale e la A finale sono maiuscole. Questo bisogna dirlo perché non è solamente un vezzo grafico, Barbara Amazonia. No, soprattutto la finale perché denota proprio la volontà di sottolineare le figure positive di donne che ci circondano in tutte le forme, dalla letteratura, dall'arte, nell'imprenditoria, nel giornalismo, nella musica, proprio per sottolineare come le competenze in campo delle donne, le competenze femminili, le storie femminili e il lavoro nostro come professioniste sia utile per tutti e sia utile portare alla luce questo lavoro, questa competenza, questa professionalità, questi sogni e sia utile per tutte le generazioni e per tutti, uomini e donne. Prima di entrare in dettaglio sul programma del festival vorrei, Barbara Amazonia, sostare un po' su un concetto che mi sembra importante, parlando di contemporanea, che non è solamente un festival, è un progetto che con questa sua vocazione multidisciplinare si racconta nel corso dell'anno, quindi c'è una presenza sì, in occasione del festival, che è comunque importante, ma ci sono vari altri appuntamenti che portano acqua al mulino di questo progetto e quindi si crea una sedimentazione culturale importante. Sì, oltre ai contenuti, diciamo che, come dicevo prima, abbiamo condiviso sui nostri social che vanno appunto dalle interviste ai profili di donne, abbiamo voluto creare una sorta di rete di esperienze, di collegamenti, di condivisioni e di progetti anche con altri appuntamenti sia online che in presenza. Abbiamo fatto una diretta, diciamo, sotto Natale di quattro ore e mezza anche qui facendo intervenire scrittrici, artiste, libraie, in vari modi, sia in diretta che tramite contributi video. Abbiamo poi attivato delle collaborazioni con una scuola di Biella con la quale abbiamo partecipato a degli eventi, in particolare sul cibo. Abbiamo poi parlato di poesia durante la giornata internazionale della poesia, che è il 21 di marzo, con contributi di Antonella Nedda, di Zanotti su Amelia Rossetti, con le letture di poesie da parte di Patrizia Zappamulas, che ci ha regalato la sua lettura di alcune poesie di Vivian Lamarca, tra cui un inedito. e abbiamo poi, verso quest'estate, ottenuto due incontri di lancio, diciamo, di anteprima del festival, uno con Anna Rita Briganti sul suo libro La vita di Coco Chanel, in quanto a Biella c'è anche una mostra che sarà ancora attiva fino a fine mese, credo, se non ancora dentro ottobre, proprio dedicata a Coco Chanel e a Marilyn, vista dall'occhio fotografico di Douglas Kirkland. Poi abbiamo concluso l'estate, a fine agosto, con la presentazione di un libro, dell'ultimo libro di Silvia Vallone, Un'amicizia, nel contesto della Country House La Bourse, che è questo luogo, questo spazio voluto da un'imprenditrice milanese che si chiama Barbara Varese e che è nel cuore della Valle Cervo, nel Biellese, uno spazio assolutamente magico da cui abbiamo presentato, appunto, il libro di Silvia Vallone. Contemporanea vive di un'immagine molto bella dell'illustrazione, vorrei anche spendere alcune parole, perché se è importante il programma, il programma è importante anche perché poi vive di un'immagine contemporanea e chi è la creatrice? Sì, esatto. Quest'anno abbiamo avuto la collaborazione di Anna Ippolito, che ha creato per noi queste immagini di queste due ragazze, una su un'altalena e una un po' sospesa in aria, legate da queste lettere che sembrano uscire dalle loro teste e avvolgere un'immagine della leggerezza, diciamo quella leggerezza di Calvino, che è molto profonda in realtà e con Anna Ippolito abbiamo collaborato anche in una serie di, ci ha regalato, diciamo così, delle altre immagini che via via pubblicavamo sui social e che commentavamo, sempre legate alla lettura e alla donna come recettiva nei confronti dell'arte e della letteratura. Noi pensiamo che il disegno, l'illustrazione sappia dare delle emozioni che la parola e la e la scrittura a volte non danno perché è molto diretta, pensiamo alla pittura e all'illustrazione da un'immagine molto più diretta, magari ci vogliono più parole per descrivere un'immagine ma le illustratrici e le artiste riescono a catturare tanti concetti, tante idee, tanti sogni in una piccola immagine. Dopo il festival letterario della città di Biella, chiamato fuori luogo, che noi abbiamo seguito i primi giorni di settembre, adesso raccontiamo un altro festival, ovvero Contemporanea dal 24 al 26 settembre, sempre a Biella. Ricordo agli ascoltatori che per curiosare nel programma, qual è il sito di riferimento, Barbara Amazoni? Allora, il sito è contemporanea-festival.com, vi invito però a seguirci più che altro su Instagram e Facebook che sono aggiornati quotidianamente e lì ci trovate come Contemporanea Festival. Contemporanea Festival e da qui poi andare a curiosare per quanto riguarda i vari appuntamenti e sono tanti, sono veramente tanti, con ospiti anche di prima grandezza. Sì, allora, intanto apriamo, come giustamente hai detto tu, a teatro domani sera, il 24 di settembre, con uno spettacolo tratto, un reading teatrale, tratto da una raccolta di racconti molto particolari che è Musa e Gesta, 16 scrittrici per 16 donne indimenticabili, ma a volte dimenticate. È una raccolta curata da due attrici, Arianna Minchi e Silvia Siravo, che porteranno sulla scena uno dei racconti, quello scritto da Laura Pugno, che è la storia di Sabina Spielrein, che fu paziente, allieva e amante di Jung. L'evento sarà alle 21, l'ingresso e libero. Laura Pugno, tra l'altro, sarà ospite anche di altri appuntamenti nel corso di questo festival contemporaneo. E poi ci sono anche, ci sono degli incontri, che possiamo definire gli incontri classici, però ci sono anche delle cose molto particolari e singolari. Io invito gli ascoltatori a superare la timidezza, perché a volte c'è la timidezza come andare a fare una cena insieme con lo scrittore o la scrittrice e perché no? Questo è anche un appuntamento che ha una sua singolarità. Sì, i pranzi con la scrittrice, che già l'anno scorso avevano avuto un buon successo di pubblico e che a noi era piaciuto molto proporre, proprio per il fatto di sentire scrittrici che ci parlano di altre scrittrici, non di loro stesse in realtà. Quest'anno i pranzi con la scrittrice sono dedicati a, avremo Patrizia Zappamulas, che ci parlerà di Franca Valeri, indimenticata e indimenticabile Franca. Ne ha scritto anche un libro che tra l'altro noi abbiamo raccontato proprio qui e stava dicendo? Sì, è vero, Franca ha un'incompresa di successo. E poi avremo invece domenica Marta Barone, che ci parlerà di una scrittrice un po' dimenticata, ma che sta replicando per Bonpiani, che è Marina Jarre. Questi sono due appuntamenti a cui sarà necessario per notarsi perché chiaramente i posti sono limitati. Che cosa vi aspettate da questo festival? Noi certamente ci aspettiamo che abbia un buon riscontro di pubblico, non solo femminile, perché chiaramente noi non ci rivolgiamo solo alle donne, ecco quello che vogliamo noi è assolutamente parlare certo della visione femminile e mettere in risalto e sottolineare le storie di donne raccontate da donne, però le storie sono chiaramente per tutti. Ci auguriamo che questo momento di confronto serva per sognare, per immergersi sempre di più nella lettura, per dare esempi magari alle giovani generazioni di storie di donne che hanno buttato la loro vita nelle loro passioni, nel loro mestiere e che lo fanno bene, anche in mestieri che a volte si pensa che siano riservati a uomini, come per esempio i direttori di gallerie. Noi avremo Lorenza Baroncelli per quel che riguarda appunto gli appuntamenti dedicati all'arte, che è direttore della Triennale di Milano e avremo Ilaria Bonacost e Simona Ricci che sono direttrici di Artissima e dell'Associazione Abbonamento Musei. Avremo incontri sullo sport, sullo spettacolo, sull'ambiente. Non so se abbiamo tempo di nominarli tutti, però veramente due giornate che voleranno ma che si svolgeranno dalle 9 del mattino fino alle 7 del mattino. Giornate piene a Biella con Contemporanea Festival, ma prima di salutarci, Marta Masoni, qual è il libro che le fa compagnia in questi giorni? Ah, io in questi giorni sto leggendo, rileggendo Mosca più Balena di Valeria Parrella che sarà ospite proprio del Festival, nella riedizione di Minimum Facts di quest'anno. Ed è un libro sicuramente molto particolare, Mosca più Balena come particolare, la scrittura di Valeria Parrella. Questo libro aveva vinto il premio Campiello dei primi anni del 2000. Grazie, grazie davvero Barbara Masoni per il tempo che ci ha dedicato e buon Festival a Biella. Grazie a voi, vi aspettiamo.